Alice Rachele Arlanch è Miss Italia 2017. La ragazza ha 22 anni, è nata il 22 ottobre 1995, ed è alta 178 centimetri. Capelli castano chiaro, grandi occhi verdi, è nata in Trentino Alto Adige. Più precisamente è cresciuta a Vallarsa, un piccolo comune di soli 14 abitanti nella provincia autonoma di Trento. È diplomata al liceo classico e studia giurisprudenza con indirizzo internazionale e transeuropeo all'Università di Trento. Sogna di diventare un avvocato impegnato nei diritti delle minoranze. Oltre a studiare è una grande appassionata di moda e calcio. La sua squadra del cuore. Il Milan. Non solo il mondo del pallone. Alice è una grande sportiva e per anni ha praticato nuoto. Attualmente frequenta una palestra, e ogni tanto va a correre per mantenere il suo fisico tonico e allenato. È una grande appassionata di viaggi mentre ha la fobia dei serpenti.